Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. Le puntate sto vedendo che si accumulano alla velocità della luce. In apertura in questa puntata, questo è un TG Sprint, per quale motivo vi spiego, voglio oggi pomeriggio concludere il lavoro per quel che riguarda la seconda parte del video dell'ingegnere della AS, l'ingegnere Naselli, che ci ha dato la possibilità di fare quattro chiacchiere assieme. La prima parte l'avete vista, la seconda voglio a tutti i costi pubblicarla, se riesco, speriamo di sì, questa sera perché è più che mai attuale e anticiperà una cosa che 99 su 100 sentirete domani. Quindi per forza di cose devo farla oggi, non sentirete per bocca mia, ma bensì sarà una comunicazione che arriverà nel mondo del motosport. Quindi oggi deve uscire questa puntata. Detta questa cosa qui, ragazzi, volevo fare i complimenti in apertura a tre miei piloti, un po' a tutti i piloti, però ce ne sono stati tre che hanno infiammato, e non poco, una delle categorie, l'SN1 Endurance, che abbiamo chiuso proprio questo fine settimana in pista, e sono Alfio Spoto, Michele Bordonalo e Carlo Abate, non li ho detti in ordine di classifica perché ancora non è stata elaborata, però hanno fatto veramente un lavoro egregio fantastico, quindi bravi, bravi, bravi. Poi in apertura sempre volevo segnalarvi la copertina del TG di ieri, dove si parla di questo argomento che vedete qua in copertina, ma anche di tanto altro. E poi come non fare i complimenti al nostro Jack Sinner, che ha vinto US Open 2024, 24, guardate, fa impressione vederlo, lì, assieme, c'è il suo nome, assieme a quelli di Djokovic, Alcaraz, Medvedev, poi Nadal, ragazzi, e tutti gli altri che non vi dico per la pronuncia. Mi sono dovuto allenare anche col traduttore di Google per una notizia che vi darò, quindi immaginatevi un po' come sto messo. Bene, adesso sigla e poi partiamo con questa velocissima puntata dove ci sono pure delle belle notizie per noi italiani. Sono davvero contento di potervi dare alcune notizie oggi, quindi ripeto, andiamo con la sigla e poi partiamo con la puntata e poi mi rituffo al lavoro per farvi vedere questo interessantissimo video. Quindi addirittura, ragazzi, la seconda parte è più bella della prima, quindi è tutta da vivere. Dai, sigla e poi partiamo. Bene, allora quali sono le notizie di oggi? Qui stiamo attenti, mi devo concentrare, pronuncia James Bowles, speriamo bene. Eccolo qui, il team principal della Williams ha chiesto alla Ferrari di cedergli prima, cioè a fine stagione, finito il campionato, Carlo Sainz che ha il contratto per tutto il 2024, quindi in teoria non potrebbe essere un pilota Williams prima del 31 dicembre. Però il buon James vorrebbe averlo prima per i test, per il simulatore, per tutte queste cose qua. Quindi vedremo se Vasser gli darà l'ok, se raggiungeranno un accordo, però io credo che non ci saranno difficoltà in tal senso. Altra notizia, questa ci interessa più da vicino. Gabriele Mini è stato chiamato questo fine settimana, quindi in prema, a sostituire Berman al volante appunto della prema F2. Quindi salto di categoria importantissimo per il futuro di questo pilota che, assieme a Fornaroli, rappresenta il futuro dei piloti italiani in Formula 1. Già l'anno prossimo ce ne sarà uno, Antonelli, però averne altri due sarebbe fantastico. Certo, il compito non è facile, cioè fare il salto di categoria nella stagione in corso, senza test, in una pista difficilissima come Baku. Però ricordiamo a tutti che Mini va veramente bene nei cittadini. Ha vinto due anni di fila a Monte Carlo, quindi mi aspetto delle buone cose. E poi altra promozione per un altro piede pesante, ovvero quel Christian Mansell, che è solo omonimo del grande Nigel, pilota australiano, che correrà con la Trident non solo alla prossima gara di Baku, ma tutto il resto della stagione in Formula 2. E poi, ragazzi, volevo farvi vedere queste immagini. Questo è il podio del campionato italiano Sport Prototipi della scorsa gara di Imola, questo fine settimana. Riconoscete il pilota che, come dire, si porta le mani in faccia con la tuta bianca e gialla, che sta piangendo in questo momento? Ebbene, è il nostro Andrea Chimi Raikoni. Ve l'ho presentato in questo canale diverse volte e ha fatto podio assoluto, nonché primo nella Master, primo nella categoria debuttanti, ha fatto podio assoluto a Imola. Ora, i complimenti vanno a lui, a Andrea Tuffariello, che è il suo ingegnere di pista, nonché il suo coach, nonché il suo preparatore al simulatore, nonché un ragazzo che ha trascorsi importantissimi in Ferrari. E tutti e due sono venuti qua. Chi segue il canale da un po' di tempo, se li ricorda, mi hanno fatto una sorpresa venendomi a trovare. La notizia di questo podio dove sta? Ecco, sta nei partecipanti. Perché vi voglio far vedere, ragazzi, la classifica. Cioè, è arrivato a Imola a 4 secondi e mezzo nel suo primo anno in una vettura così importante, ecco, a 4 secondi e mezzo da quel Luigi Ferrara, che meritava la Formula 1, che è un pilota che ha dominato in Formula 3 ai tempi quando correva, ed è un pilota dal piede pesantissimo. Da quell'Emil Hellenberg, altro pilota svedese, forte, forte, forte. E poi davanti a Omar Maiona. Non ci sono bisogno di presentazioni per un pilota come Omar Maiona. Vogliamo parlare del sesto classificato? Davide Uboldi? Ebbene, Andrea Chimi Raiconi ha fatto davvero una performance incredibile a Imola, coadiuato dal suo team, coadiuato da Andrea L'altro, Andrea Tuffariello, che lo ha preparato benissimo. Complimenti davvero a questi ragazzi che sono iscritti al canale, che ci seguono da tempo, che sono venuti addirittura a trovarci qui a Centuripe, e quindi grazie veramente di cuore per, come dire, queste performance che personalmente a me fanno tantissimo piacere. Bene ragazzi, adesso chiudiamo questa puntata, che è una tra le più brevi della storia di Racing Time, nonché un video normale che va su YouTube, ma noi li facciamo molto più lunghi. E niente, vado di corsa a finire la puntata con l'ingegnere della AS, perché c'ho voglia di farvela vedere entro stasera. Un bacio, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, al nostro secondo canale Selezione TV2, e poi ancora ragazzi lasciate un like e un commento. Da Nicola Castiglione per il momento è tutto, ci vediamo questa sera. Ciao!